Una bella giornata di sole per un derby che si profila interessante e qualcuno dice spettacolare, chissà. Certo è che gioco scintillante o meno, la Lucchese vuole i tre punti. Perdere terreno dalla Correggese, che a sua volta ospita il San Colombano, sarebbe a dir poco delittuoso. Ma il Camaiore, privo del forte centrale Mazzone, interlocutore scomodo e roccioso. E poi un derby, o no, il più vero della stagione. Squadra che vince non si cambia, allora Pagliuca ci pensa su, ma alla fine manda in campo lo stesso Undici, che sette giorni fa ha sbranato la Clodiense. Lucchese in completo bianco, Camaiore nel classico blu amaranto. La gara si sblocca subito, 30 secondi, ed è fallo su Tarantino. 54 secondi e lo stesso Tarantino a punire Rizzato con una punizione calibrate e velenosa. Undicesima rete stagionale per il Nazza, si festeggia in modo caloroso, tanto che ne fa le spese chianese. La Lucchese vivacchia sul sollecito vantaggio e così il Camaiore trova al pari, su azione personale di Tosi Francesco, che approfitta di una difesa della Lucchese perlomeno in bambolata. Il 10 Camaiorese fa tutto da sole, uccella a casa Pieri da pochi metri. Derby spettacolo evocato alla vigilia, e spettacolo sia. Lucchese di nuovo in avanti, punizione di Tarantino, sulla quale si accende un mischione inenarrabile e clamoroso, che dopo una serie di batti e ribatti, Caboni risolve scaraventando il cuoio sotto la traversa. Settimo sigillo per l'attaccante di quarto Sant'Elena. Nolè entra così, fuori tempo, inevitabile il giallo per il mediano che era in diffida, e che salterà la trasserta di San Colombano. Al trentunesimo ci prova Laras, ma il tiro è svirgolato e finisce alto. La Lucchese fa fatica, non gioca come sempre, e prova ad agire di rimessa. Terlino lancia Caboni, che tenta la conclusione da posizione difficile, quasi impossibile in corsa. Applausi comunque. Allo scadere, prima Biagini scaglia una sassata, su punizione che Casapieri vede all'ultimo momento. Poi, sul rovesciamento di fronte, Caboni fila via in contropiede, Marizzato salva in disperata uscita. Nell'intervallo, il gazzettino rossonero decide di apporre una targa commemorativa sulla poltroncina che l'indimenticabile Bruno Polverini occupava ogni domenica. Per la Lucchese, il presidente Bacci e il dirigente Nannini. In avvio di ripresa, al sesto, primo sussulto della Lucchese con tiro secco di Caboni, Marizzato è attento. Al settimo, calcio di rigore per gli ospiti. Per un fallo sull'Aras, la decisione dell'arbitro è ineccepibile. Dal dischetto si presenta Biagini, che spiazza Casapieri, ma il pallone finisce sul palo e torna in campo. Esplode il boato del Port Elisa. Ancora Camaiore al quarto d'ora vicino al Pari, con un diagonale di Laras che sfiora il montante. Pagliuca cambia, entrano Petrini e Papini, Perzinetti in difficoltà e Tarantino. Ma la Lucchese continua a soffrire. Al trentasettesimo, Nolè anche oggi tra i migliori recupera palla e mette in mezzo per De Luca, che gira però a lato. Il finale è sofferenza pura. Quattro minuti di recupero, ma non succede nulla. Se non che al quarantottesimo, ancora Laras in diagonale, ma Biagini spreca il punto del 2-2. Sospirone di sollievo sul triplice fischio dell'arbitro. La Lucchese vince 2-1, ma il Camaiore avrebbe meritato il pari. Ci sono i tre punti e per oggi va bene così.